Ciao a tutti io sono Manuela benvenuti o bentornati se aveste per caso e per vostra sfortuna visto il mio primo video delle cose tecniche che proprio non mi sono piaciute ma va bene è l'inizio spero di migliorare la qualità audio video luci e quant'altro prossimamente e oggi invece volevo farvi vedere l'ordine che ho fatto per la nuova uscita di lisa eldridge ci ha messo circa 10 una decina di giorni ad arrivare non so se causa covid causa brexit ma ecco non è stato appunto immediato ma neanche così tanto vi faccio vedere il pacchetto che è arrivato questo qua io ho preso pochissima roba ho preso due rossetti e una matita uno rossetto e una nuova uscita si tratta dei rossetti true velvet questi sono i rossetti trovo che abbiano il packaging più bello ed elegante in assoluto punto adoro la scritta e c'è il marchio di lisa eldridge combinati due pacchetti rifanno il marchio di lisa trovo fantastici eleganti per niente pacchiani questa invece è la matita non ho mai seguito lisa eldridge prima ne ho sempre sentito parlare però era un periodo in cui non volevo usare rossetti cioè nel senso o rossetti matt ma trovo che sulle mie labbra sempre secche screpolate ho detto vabbò basta sto preferendo rossetti con un altro finish poi un vabbò nei canali che seguo li ho sempre visti un giorno mi è capitato di vedere forse il giorno prima dell'uscita il suo video di presentazione dei nuovi rossetti e aveva un rossetto all'inizio che come colore mi ha incantato e poi si ero opaco ma non faceva le labbra rinsecchite e quindi visto che adoravo il colore e visto tutto sono andato ho fatto un ordine tra l'altro sono andata subito a vedere il sito perché vanno sold out sempre tutti in un secondo c'erano ancora io purtroppo devo ricaricare la poste pay si la poste pay non ho la poste pay la carta prepagata e non ero in giro non amo fare queste cose col cellulare quindi ho aspettato un attimo l'ho fatto due giorni dopo l'ordine quando l'ho fatto io c'era tutto sul sito tra l'altro davano anche la possibilità di ricevere dei campioncini del nuovo fondotinta che ad oggi non è ancora uscito credo no non è ancora uscito perché ho guardato prima il sito peccato che io quando mi hanno chiesto che mentre stavo scegliendo i vari rossetti mi hanno chiesto quale colore volessi io lì per lì ho chiuso la finestra e perché volevo prima vedere tutto poi finito l'ordine me ne sono completamente dimenticata e quindi non mi è arrivato niente e quindi il fondotinta non lo proverò se no oggi avrei provato anche quello molto volentieri però dalle recensioni che ho già visto ci farò un pensierino adesso vediamo anche perché scegliere il colore tra l'altro sul sito c'è il modo tipo come si fa su sephora americano di mettere la shade del tuo fondotinta preferito così e ritrova quello del fondotinta che vuoi comprare adesso faccio un po di prove con i vari fondotinta che ho e vedremo cosa ne esce fuori passiamo ai rossetti io ho preso quello nuovo che appunto avevo visto sul suo video velvet petal della nuova collezione invece uno che era già uscito velvet muse e la matita ho preso velvet petal sulla scelta delle shade ho avuto un po di problemi nel senso sono andata un po a casaccio perché ho notato che vedendoli provati su diverse persone diverso fototipo sottotone di pelle così cambiavano tantissimo e allora sono andata un po caso ma quello che appunto velvet petal perché l'ho visto su di lei mi piaceva un sacco e poi sono andata a casa ne ho preso uno che mi ispirava un minimo non volevo stare su shade troppo scura quindi mi sono tenuta su quelle più chiare anche se non le più chiarissime vi devo dire subito poi dopo che ho fatto l'ordine sono andata a vedermi un po su instagram e quelli che ho soprattutto velvet petal su alcune persone mi sembravano un po troppo rosa baby e quindi ho detto ho fatto una cavolata me ne pentirò è arrivato lo quello l'ho già provato per quello troppo curiosa il colore non è rosa baby su di me assolutamente ma non è neanche come risultava su lisa eldridge lisa eldridge non so se voi lo sapete forse lo sapete meglio di me ha lavorato con molti personaggi formosi tra cui sindy crawford all'inizio della sua carriera è stata direttrice creativa di lancome ha lavorato per chanel e shiseido quindi e poi devo dire che io la trovo bellissima non bellissima e bravissima mi sto infatti mi sto guardando alcuni suoi video in questi giorni quando niente a fare bellissimo vabbè questo appunto è il packaging secondario adesso se riesco ad aprirlo vi faccio vedere anche quello primario anche quello primario devo dire che ad eleganza che vogliamo dirgli è calamitato questo è velvet petal che dovrebbe essere un rosa caldo peoni molto primaverile su di me è abbastanza acceso mentre su lisa l'ho visto un nude pescato mi faceva impazzire peccato che su di me non sia così ne proverò altri ve lo dico non so quando ma succederà questo invece è velvet muse che ne ho ancora aperto proprio infatti non vuole uscire dai ciccio questo invece sembra più rosso mattone sembra che non ho ancora visto e ci vedo anche del rosa marrone rosa nocciola però scuro per niente nude c'è su di me non sono per niente nude non so se riuscite a vederlo il bullet polveroso ricorda a me ricorda non so sì sono usciti prima quelli di pat credo i rossetti di pat mcgrath matt e questa invece è la matita velvet blush sì blush c'è anche blush ma non è questo velvet petal sulle matite dovrebbero essere sono cremosissime le matite a detta di lisa sono sono cremosissime anche sbucciandolo si sente però si dovrebbero fissare che la qualità di una matita che io ricerco perché soprattutto quelle per i colori non nude io che mi vadano a finire nel codice a bar perché ce l'ho non so mangi baby e cioè qua qua quando mangio spesso mi andrò un rossetto quasi un po' più colorato cosa terribile infatti sono sempre lì che mi guardo e quindi per me questa è la cosa fondamentale che deve avere una matita non muoversi adesso poi lascio stare questo swatch qua un po' e poi provo a vedere se va via o meno tra l'altro ho fatto solo una passata sono full of pigment proprio volevo adesso provare i rossetti con voi inizierei dal quello che mi sembra più chiaro che è velvet petal e lo metto prima senza matita ah tra l'altro la matita è temperabile quindi io le preferisco decisamente uno riesco a mantenerne la forma come voglio e due non si seccano sono più igieniche questo è il petal questo è il petal questo per me è il maggior grado di di neon che posso sopportare però adesso magari non con questo trucco mi piace un sacco sono morbidissimi io ho fatto due passate ma è più per abitudine di come metto il rossetto ma non servono adesso provo la matita la matita per le mie labbra è necessaria perché non sono per niente regolari soprattutto sopra ho una cicatrice pure qua o volevo farla acrobata da piccola proviamo questo è il petal sono molto irritante infatti ho visto che sul video di presentazione di Lisa non so se l'ho notato solo io aveva secondo me delle labbra come le mie un po' secche e screpolate quando ho messo il rossetto è sparito tutto io non so se sia una questione di luci di filtri o cosa ma l'effetto era bellissimo sono morbidissimi per niente secchi poi naturalmente bisogna vedere come va durante la giornata io in questo momento le labbra lasciamo stare mi si sono screpolate io mi sono staccate le pellicine perché mi fanno venire ai nervi le pellicine sulle labbra e quindi sono in fiamme comunque questo è velvet petal tolgo non so come spero di non fare i disastri e provo velvet new ecco l'ho tolto ho usato una salvietta ci ho messo varie passate per toglierlo vi dicevo che ho già provato velvet petal l'ho provato ieri è durato parecchie ore tra l'altro ci ho anche mangiato su non roba oleosa ci ho mangiato una brioche un panino ed era ancora lì quindi durata eccelsa direi velvet muse questo colore qua adoro questo l'adoro è un marrone rosato medio scuro cioè almeno su di me sugli altri credo sia più chiaro mi piace un sacco però di questo non ho preso la matita nella stessa collezione sono usciti poi altri tre colori di velvet di true velvet velvet cinnabar velvet light blush e velvet intrigue uno il più scuro mattone rosso mattone light blush che la versione più chiara di blush che è un malva secondo me abbastanza acceso almeno vederlo sugli altri per quello non l'ho preso ma mi sto appassionando e poi intrigue che invece dovrebbe essere il più chiaro della linea quello quello forse su di me rimane nude sul serio infatti insieme a phone sarà uno dei prossimi ad arrivare qui sono poi uscite le matite di tutti i colori dei rossetti della linea in permanente mentre prima erano disponibili solo nei set tra l'altro quest'anno non c'è stato nessun non è uscito nessun set e poi sono usciti altri colori del dei gloss e a giorni dovrebbe uscire il fondotinta che invece mi ispira un sacco anche perché dovrebbe essere senza fragranza senza alcol con un finish saten soft matte che per me è il non plus ultra niente adesso volevo farvi delle comparazioni con dei rossetti che ho di soprattutto di pat allora questo è fin bot che dovrebbe essere un malva chiaro questo è decisamente più freddo rispetto agli altri due di lisa poi abbiamo sensual stranger questo mi pare fosse lo metto qua perché dovrebbe essere un po' più simile a petal è meno neon però come tonalità c'è questo più flash questi rossetti qua di pat li avevo presi quando c'era stato il mega sconto 13 euro a rossetto tra l'altro su pat non ci sono le spedizioni nel dogana e questo invece è peep show che invece è questo molto chiaro molto più chiaro molto più rosato questi di charlotte walk of no shame volevo questo è muse questo è muse questo è walk of no shame muse è walk of no shame che sembra più mattone meno rosato dicevo quelli di charlotte secondo me sono un pelo più lucidi rispetto a quelli di lisa quelli di lisa sono proprio velluto velluto puro nome più azzeccato non ci poteva essere mrs kiss più mattone rosso mattone velvet muse secondo me decisamente più ma un sottotono più rosato ah e tra l'altro le matite quando si asciugano dovrebbero essere leggermente però da asciutte leggermente più scure della stessa shade del rossetto io con questo ho concluso spero di non dico esservi stata utile perché con due rossetti e con queste luci oggi è nuvoloso piove non so quanto si capiscono i colori ma almeno secondo me se volete acquistare un rossetto di lisa guardate più foto di persone diverse con carnagione diversa possibile perché secondo me cambiano veramente tantissimo da persona a persona sull'isa petal vi giuro andate a vedere quel video era tutta un'altra cosa io non so se ripeto sia il set le bucci che sicuramente è più brava di me su questo non ci piove come al solito mi dimenticavo di dirvi una cosa avevo fatto lo swatch qua della matita per vedere se era resistente o no agli sfregamenti e cose varie e quindi adesso mi avvicino e vediamo dove sei matita qua? nada non va via prova superata benissimo io vi rimando un grosso bacio alla prossima ciao